Saranno tra le protagoniste indiscusse e più attese del Carnevale di Venezia 2023, scelte a Palazzo Rabia le 12 Marie del Carnevale, l'evento ideato e voluto dall'indimenticabile regista Bruno Tosi e oggi portato avanti con passione dalla Presidente della Fetta delle Marie, Maria Grazia Bortolato. Per essere scelte, le ragazze, per vivere un'esperienza indimenticabile, hanno fatto parte di un gruppo di quasi 80 candidature da tutta la città metropolitana. Le 12 Marie saranno presentate ufficialmente alla città, sabato 11 in Piazza San Marco, dove arriveranno novità di quest'anno in Gondola. Sono felice di queste ragazze, mi sembrano, a parte la bellezza, mi sembra che potremo andare d'accordo e che sarà, come sempre, come tutti gli anni, una grande Festa delle Marie 2023. L'ho appena detto alle 12 Marie di quest'anno che Maria si è per sempre. Saranno ambasciatrici della città di Venezia chi ha spiccato il volo della Festa delle Marie è stata l'attrice Claudia Marchiori, oggi di livello nazionale, Maria dell'anno nella prima edizione, che proprio in questi giorni è tornata a Venezia, la sua città, in veste di giurata e selezionatrice delle nuove Marie. È una grande emozione essere qua, mi sento a casa, particolare, perché ovviamente in una veste nuova. Sono molto felice perché abbiamo selezionato ragazze belle, sia dentro che fuori, a 360 gradi, perché la bellezza non è solo estetica ma anche di contenuto. C'è una parte di fortuna, una parte di impegno e di studio, quindi se la fortuna ti tocca bisogna coltivarla. Ricordo una ragazza molto emozionata che non credeva ai suoi occhi, non se l'aspettava tutta questa grande emozione, tutta questa esperienza.